E' stata presentata la nuova squadra di governo della diciassettesima legislatura guidata dalla presidente della regione Alessandra Todde, Armando Bartolazzi, patologo all'azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea di Roma ed ex sottosegretario alla salute del governo Conte 1 e il nuovo assessore alla sanità. La più votata di tutta l'isola, Desiree Manca, ha lavorato prima come impiegata e poi come direttrice in aziende specializzate nei servizi di assistenza alla persona ed è ora alla guida dell'assessorato del lavoro. All'urbanistica, Francesco Spanedda, architetto fortemente voluto dalla presidente Todde perché nella sua carriera si è occupato soprattutto di urbanistica di bassa intensità. Giuseppe Meloni, ex consigliere regionale del Partito Democratico e sindaco di Loiri Porto San Paolo, è ora il nuovo vice di Alessandra Todde ed il nuovo assessore al bilancio. L'ex assessora alla mobilità e trasporti di Quartus Sant'Elena, con un master internazionale di secondo livello in politiche ambientali e territoriali, è adesso la nuova assessora ai trasporti della regione Sardegna. All'agricoltura invece Gianfranco Satta, progressista che nella precedente legislatura ha fatto parte della commissione Programmazione e Bilancio e ha ricoperto la carica di vicepresidente della commissione Industria e Commercio Artigianato. Antonio Piu, ex consigliere regionale di Verdi e Sinistra, è ora il nuovo assessore ai lavori pubblici. Alla guida dell'assessorato al turismo, Franco Cucurendu, che è stato il sindaco di Castelsardo ed è ora il presidente della Rete dei Porti. L'ex sindaca di Dolianova, Rosanna Laconi, dottoressa e direttrice di struttura complessa, è ora la nuova assessora della difesa dell'ambiente. All'industria, l'ex segretario regionale del Partito Democratico, Emanuele Cani. Ilaria Portas, invece, è la nuova assessora alla cultura e istruzione. È stata in passato vice sindaco di Masainas ed ex capo di gabinetto dell'assessorato durante la giunta a Pigliaru. All'esperta di organizzazioni complesse, Marilena Mozzo, attualmente assessora al bilancio, pubblica istruzioni e attività produttive del comune di Bolottana, la delega agli affari generali.